Tre persone, due uomini e una donna sono rimasti feriti a seguito di un'esplosione verificatasi in un appartamento semi-interrato a Monte Paone Lido, nel Catanzarese. Le condizioni dei due uomini, che hanno riportato ustioni, sono ritenute più gravi, mentre la donna è rimasta ferita, ma è cosciente. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, del comando di Catanzaro e del distaccamento di Soverato. La donna, dopo l'esplosione, era rimasta bloccata dalle maciari all'interno del bagno ed è stata tratta in salvo dai vigili che l'hanno poi affidata ai sanitari del 118. L'esplosione ha completamente divelto le pareti dell'abitazione, porte e finestre. Danni anche alle abitazioni soprastanti, che in via precauzionale sono state evacuate. Secondo le prime ipotesi a causare la deflagrazione, sarebbe stata una probabile fuga di gas. Ulteriori accertamenti sono in corso sul posto Carabinieri e Polizia Locale.